Quello di Boniki è un piccolo villaggio tataro nella Polonia orientale, a un passo da Cucinizza, assurda agli onori della cronaca per essere il palcoscenico del dramma dei migranti medio-orientali inviati da Mischi verso il confine polacco, Unione Europea. A Boniki la comunità musulmana ha aiutato i migranti consegnando cibo, vestiti, beni di prima necessità. Tutta la sofferenza che vediamo in queste persone e tutti questi bambini piccoli che soffrono, piangono, è semplicemente terrificante. Allo stesso tempo noi residenti dell'area ci sentiamo al sicuro finché i militari custodiscono i confini perché anche loro sono esausti. Quindi cerchiamo di aiutare da una parte e dall'altra perché la situazione è una vergogna sia per gli immigrati che per i nostri soldati. Per la prima volta, lunedì scorso, il villaggio ha ospitato i funerali di uno dei migranti morti nel tentativo di attraversare la frontiera polacca. Cittadini siriani già residenti in Polonia si sono recati a Boniki per partecipare alle sequie, un viaggio che non avrebbero mai voluto fare. Quello che sta accadendo in questo momento è letteralmente una tragedia. È possibile parlare tra paesi? Devono in qualche modo trovare un accordo? Che si decida di respingerli o di accoglierli, ma fargli fare avanti e indietro è impossibile, è impossibile lasciarli così alla frontiera. Cosa accadrà dopo? Questo è un massacro. Ahmad Alassan è stato trovato un mese fa a cadavere in un fiume vicino al confine con la Bielorussia. Aveva 19 anni. È una delle almeno 10 persone dichiarate morte dall'inizio della crisi al confine tra Polonia e Bielorussia. Eppure non c'è pietà da parte delle forze dell'ordine polacche che ancora nelle ultime ore, col freddo che gela, hanno usato gli idranti contro i migranti. Gli abitanti del villaggio che hanno sepolto a Ahmad temono che altri, come lui, facciano la stessa fine, interrati nel cimitero del paese. Molti di coloro che vivono verso il confine con la Bielorussia nella Polonia orientale non vogliono che i migranti entrino nel loro paese. Ma per molti altri, come qui a Booniki, la compassione e l'umanità verso coloro che sono pronti a rischiare la propria vita per una migliore, devono venire prima del calcolo politico.